Rendere sempre più efficiente il sistema di protezione civile abruzzese, con particolare riferimento alla valorizzazione e tutela dell'ambiente marino e costiero. È l'obiettivo del protocollo d'intesa, siglato tra l'Agenzia regionale di protezione civile e il corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Direzione Marittima di Pescara. Il documento è stato siglato dal direttore dell'Agenzia, Mauro Casinghini, e dal direttore marittimo, il Capitano di Vascello, Salvatore Minervino. Cosa prevede questo protocollo d'intesa? Prevede l'implementazione di molte attività, attività formative, anche attività di addestramento esercitative e anche operative, ovviamente, nel caso fossero necessarie. È un accordo che rinsalda ulteriormente rapporti già assolutamente saldi fra strutture operative di protezione civile, per cui implementare attività di protezione civile sulle nostre coste per noi è fondamentale ed è fondamentale anche per la Guardia Costiera. Sicuramente individueremo ulteriori strumenti per potenziare questo tipo di collaborazione, specie durante il periodo estivo, dove ovviamente il mare diventa più popolato dal punto di vista anche della fruizione turistica. Certamente c'è un problema anche di carattere ambientale, perché le nostre coste, il nostro mare è un mare di passaggio ed potrebbe anche essere soggetto, per esempio, a fenomeni di spiaggiamento di prodotto petrolifero. In questo caso, per esempio, già c'è del volontariato di protezione civile formato per questo tipo di intervento e prevediamo di formarne ulteriore, anche nell'ambito delle istituzioni, quindi anche nell'ambito degli enti locali, quindi dei comuni che affacciano sul mare, proprio per iniziare a pianificare in maniera un po' più puntuale questo tipo di intervento. Sul campo, gli uomini e le donne del Capitaneo di Porto e della Direzione Marittima, quali attività svolgeranno? Soprattutto nella tutela dell'ambiente marino e costiero, inquinamento, ricerca, soccorso, verifiche preventive finalizzate a tutti i tipi di tutela proprio dell'ambiente marino. Saranno impegnati sul campo, ma sempre coordinandosi con l'Agenzia regionale della protezione civile per tutti i tipi di emergenza. Ci sono dei mezzi anche che la stessa protezione civile ha dato in uso alla Guardia Costiera per supportare l'attività di verifica.